Un'ovazione ha accolto la senatrice Ligiana Seghe al Teatro Ariston di Aquiteme, premiata come testimone del tempo insieme al professor Stefano Zecchi e all'antropolico geocro Gerwig Diamond, ha trattato sul palco dell'Ariston la sua testimonianza come superstite dell'Elocausto e attiva il testimone della Shoah italiana. Un racconto che ha commosso il numeroso pubblico presente. La senatrice Ligiana Seghe ha voluto sottolineare la necessità di mantenere sempre viva la memoria di quei 13 fatti per non incorrere nel rischio di ripetere quegli errori. Ho paura della perdita dalla democrazia, ha spiegato, perché io so che cos'è la non-democrazia. Il momento clou della 52' edizione della Quistoria è stato anticipato dalla premiazione dei volumi scelte alla speciale giuria. Presente da Roberto Giacobbo, storico produttore di Voyager su Rai 2 e attualmente di Freedom sulle Red Mediaset, sono sfilati sul palco i vincitori. Per la sezione storico-scientifica Giuseppe Parbini con il volume Prove e tecniche di rivoluzione, l'attentato di Atti, luglio 1948, l'Uni editrice. Nicola Stargardt con La guerra tedesca, una nazione sotto le armi, 1939-1945, Neri Pozza editore. Per la sezione storico-divoltiva Gian Piero Pieretto con Quando era l'Unione Sovietica, 70 anni di storia culturale sovietica, Raffaello Cortina editore. Per la sezione romanzo storico Mattia Bernardo Bagnoli con Ricorda e l'Ore della Notte, edizioni PM. Premio storia in TV Adamio Ricucci, giornalista Rai, autore del libro e cronaca del fronte. Premio alla carriera Donald Sassone e Romano Ugolini. Il premio a cui storia ha visto la partecipazione nel corso degli anni di cenare di personaggi celebri della cultura, della televisione, dello sport e dello sport. Il premio a cui storia è un utile strumento per capire la realtà e per costruire una memoria condivisa sui fatti tragici che hanno usato la nostra storia. Come ci siamo profondamente stimolati, nonostante impegno per far crescere questo evento, unico e seducente, ha dichiarato il sindaco di Aquiterno Renzo Lucchini. L'assessore della cultura Alessandro Terzolo ha ricato invece il carattere cosmopolita del premio, confermato quest'anno dalla presenza di insini studiosi che si sono affermati a livello internazionale e con i quali il pubblico ha avuto l'eccezionale opportunità di confrontarsi in occasione delle giornate conclusive, comporre quest'anno da una serie innumerevole di eventi collaterali.